...a un dialogo all'aperto, diciamo così, e comunque eccoci qua. Questa serata si ferisce in un piccolo, come si può dire, una piccola raccolta di eventi che abbiamo fatto in occasione di 700 anni di Dante, del centenario dantesco, e poi abbiamo esposto una piccola chicca della nostra biblioteca, che è l'edizione illustrata di Gustave Doré, che è sempre molto molto bella, lì nella teca all'ingresso. Poi c'è stato un evento dedicato ai più giovani, delle letture con Tino Costalunga, che si sono svolte qui in cortile proprio, e questa sera abbiamo il nostro ospite, Paolo Pellegrini, che è veramente un piacere averlo qui questa sera. Lo spunto dell'invito è stato questa recente sua pubblicazione di Cittacone in Audi, che è Dante Alighieri, Una vita, ed è una biografia sulla quale questa sera poi ci intratterremo, discutendo qualche aspetto e qualche questione più circoscritta. Dunque, un breve inquadramento del nostro ospite, che è ordinario di filologia italiana dell'Università di Verona, è stato Visiting Pellor, di Bari Università Straniere, Harvard, la Columbia, non cito solo qualcuno, insomma relazioni in tutto il mondo, a Pecchino, New York, Helsinki e così via, e i suoi studi di filologia hanno vari, quattro io insomma ho cercato, leggendo quello che conoscevo e un po' muovendomi sul denso curriculum che vi invito a consultare sulla pagina del suo dipartimento veronese, c'è una parte che è rivolta anche alla storia della linguistica e della tipologia, quindi un interesse di questo tipo. Poi gli studi sulla tradizione classica dell'umanesimo, in questo io non posso non ricordare anche queste cose bellumese, lumanisti, lumanisti, lumanisti Feltrini, tra umanesimo e il nascimento, bellissimo libro, che fa luce appunto anche su un capitolo cosiddetto minore, tra molte virgolette, dell'umanesimo. Poi molti studi riguardano la lingua e la letteratura in volgare dei primi tempi, e dopo c'è tutto questo lavoro sull'opera di Dante, di Petrarca, di Boccaccio, e anche su Sacchetti c'è un specifico dubbio di interesse che si sviluppa. Quando io ho visto questa biografia sono stato attratto, lo ammetto, anche dalla volumetria. Ovviamente conoscendo i suoi lavori non dubitavo della qualità del lavoro, ma la volumetria è stato un fattore che mi ha spinto all'acquisto. Poi, questa è una cosa che chiederemo direi subito, scrivere vite è sempre difficile, scrivere una vita di Dante credo sia una cosa che mette i brividi, nel senso che ci occupiamo di ricostruire una vita non di una persona qualunque, e che ha soprattutto alle spalle una tradizione molto lunga. Se vogliamo andare agli erbori, possiamo già, insomma, i primi banisti, insomma, Bruno, Piondo, Flavio, Boccaccio, insomma, Cacchatellio, no? Che si sono quindi concentrati sul tentativo di ricostruzione di questa vita. E poi via, per saltare, insomma, a pie pari, insomma, sull'Ottocento, diciamo, prima gli stimoli delle scuole filologiche tedesca, inglese e americane, e poi il grande slagio italiano di Michele Bardi, ecco, per fare solo un nome tra i più noti, e Mico, Zingaretti, 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 e poi mi fa questa cosa. E adesso ve le leggo perché le ho numerate qua, ecco, queste le ho abbandonate. Mi interessa, la premessa è bellissima, la premessa è bellissima, è un libro che ha una bellissima premessa perché ti porta subito dentro i problemi, i mobili che hanno spinto Paolo Pellegrini a indagare la vita di Dante, no? Quindi, vi leggo, scrivo una biografia di Dante, l'idea, insomma, il primo impulso, è nata dalla curiosità e allo stesso tempo dall'insoddisfazione per questa modalità di lettura. Quale modalità di lettura? Quella che ripercorre la commedia come una sorta di instant book su cui Dante avrebbe notato persone, luoghi, vicende che avrebbe incrociato nella sua vita. Questo è uno dei primi, un primo impulso, un meccanismo che funziona molto, insomma, la famosa biografia di Sant'Agata, che è appunto recentemente mancato, si muove proprio su questo filo qui. Poi, punto 2, scrive, un certo disappunto per la tacita liquidazione che è stata riservata all'insegnamento di alcuni grandi maestri del passato. Quindi, la nuova, la scuola della nuova, cosiddetta nuova filologia. E qui c'è un passaggio molto bello sull'importanza delle note, dell'apparato critico di queste cose. E poi ancora, dice, una nuova biografia poteva avvantaggiarsi della recente pubblicazione di contributi e strumenti di ricerca aggiornati e importanti, dei quali chi mi ha preceduto ha potuto solo in parte beneficiare. E questo è un elemento importante per chi vuole addentrarsi negli studi danteschi, grazie a questo libro, può avere anche un aggiornatissimo bilancio bibliografico. E poi, da ultimo, ho cercato, scrive Paolo Pellegrini, per quanto possibile, di adottare uno stile semplice e chiaro nella convinzione che uno dei compiti principali del filosofo dovrebbe essere quello di comunicare con un pubblico più ampio dei consueti 25 lettori. E qui è stato ottimista, perché, nel caso, è vero, alle volte scrivendo studi, insomma, scientificamente benissimo centrati e così via, capita che abbiano 25 lettori. Io, tra le cose che ho scritto in ambito strettamente scientifico, qui intanto piogono cose. C'è il famoso libro sulla cattedrale di Paolo nel XVII secolo, l'istituto storico italiano per il Medioevo, legge una persona che vede nelle banche dati, dice, vedete dove si copia. Ecco, in Italia. E questo invece è un libro, signori, che io vi raccomando, perché è veramente lineare, chiaro, puntuale e leggibilissimo. Veniamo, dunque, a questo aspetto, che è la prima domanda che intendevo, diciamo così, rivolgerti. Scrive una biografia di Dante. Quali sono i punti critici, le aree di scivolosità, i rischi che si possono incontrare? Sì, mi sentite bene? Sì. Allora, intanto devo ringraziare Matteo per l'invito. Ci siamo conosciuti un po' di anni fa, perché lui è feltrino, io sono bellunese e sono un po' come i guelfi bianchi, i guelfi neri, i feltrini bellunesi, ma invece noi andiamo molto d'accordo, perché aveva lavorato su alcuni argomenti di cui mi ero occupato anche io e quindi lo ringrazio molto di avermi invitato. E gli ricordavo prima che, in realtà, quando io ero ragazzo, avevo l'abitudine di venire abbastanza spesso a Castelfranco Veneto. Perché? Perché io giocavo a pallacanestro e quindi giocavo a pallacanestro con la scuola di Belluno e uno degli avversari più terribili era il Pedrini di Castelfranco Veneto. E quindi sono venuto tante volte a giocare al palazzetto di Castelfranco, che per me era un palazzetto meraviglioso, perché potete immaginare, rispetto a quello di Belluno, giocare in questo palazzetto che aveva le tribune, anche se erano vuote, ma era una bella soddisfazione. Quindi ho questo bel ricordo di Castelfranco Veneto, mi fa piacere tornare a parlare di Dante in questo caso. Dico anche che sì, questo obiettivo dei 25 lettori l'abbiamo superato, perché in realtà il libro è già stato ristampato, quindi vuol dire che tutte le copie della prima tiratura, in Audi non ne tira pochi di copie, sono andate esaurite. Questo a me ha fatto molto piacere perché mi danno i diritti d'autore, ma vuol dire che l'operazione con cui è nato il libro, cioè l'idea di proporre un diverso modo di leggere la vita di Dante rispetto magari a quelli precedenti su alcune cose e di diffonderlo è in parte riuscita, ecco perché quando noi facciamo questi lavori un po' più approfonditi e li pubblichiamo con degli editori piccoli succede, è successo a Matteo, è successo anche a me, che le copie vendute siano veramente poche e quindi quello che tu vuoi comunicare resti lì nel cassetto di casa tua. Ora, il mio libro non può competere con magari la vita di Dante e di Barbero, io non vado in televisione così spesso, anche se qualche volta ci vado, però è un libro di taglio diverso e di spessore diverso rispetto al mio. Però la proposta che io volevo fare ha girato proprio per il fatto che in Audi si è fidata di me e la cosa mi ha fatto piacere. Venendo alla domanda sui rischi che si corrono nel pubblicare una vita di Dante, i rischi sono tanti, prima di tutto perché Dante è noto in tutto il mondo. Dovunque tu vada, io sono stato, mi hanno invitato a parlare a Pechino, in America, Dante lo conoscono tutti, bene o male, comunque l'hanno sentito nominare tutti. E quindi il fatto di lavorare su Dante ti dà un'enorme visibilità. Quando tu scrivi qualcosa su Dante, se riesci un pochino a conquistarti una fetta di mercato, hai un numero di lettori che normalmente è superiore alla media. E per questo fatto di avere un'apertura sul pubblico un po' più ampia, i lavori su Dante suscitano anche più critiche, perché le persone che lo leggono sono di più, e anche più invidie. Non sapete quante me ne sono attirate io per aver pubblicato il libro di Inau, di gente che mi chiede, ma tu come hai fatto? Com'è che il tuo libro l'hanno preso e il mio no? Dico, non lo so, non vi so rispondere. Però ti attiri un sacco di invidie. Quindi ci sono colleghi che se potessero mangiarti vivo, ti mangerebbero vivo, perché tu hai pubblicato dai naudi e loro no. E succede anche di questo. E questo comporta molti rischi, perché ovviamente vanno a leggere anche le note, anche le righine più piccole per trovare l'errore. Credo che sia una cosa positiva, perché quando uno ti segnala un errore, hai la possibilità di correggerlo. Siccome nessuno sa tutto, e io certamente non sono diverso dagli altri, il fatto che qualcuno mi segnali degli errori lo ritengo un aspetto positivo, perché vuol dire che ha letto bene il libro e vuol dire che posso correggere un errore che ho fatto, ho imparato una cosa nuova e sempre una cosa positiva. Quindi il rischio maggiore che si corre è appunto quello di, in parte, andare incontro a un pubblico molto ampio e agguerrito, che ti mette in croce su molti aspetti e tu devi essere capace di accogliere queste critiche in modo costruttivo, di correggere gli errori che hai fatto, perché ce ne sono, ripeto, e quindi procedere poi eventualmente per migliorare. L'altro rischio è che quando si lavora su Dante la quantità di informazioni da maneggiare, benché i documenti siano relativamente pochi, è comunque piuttosto consistente. E quindi bisogna assolutamente sottoporre l'opera a tutta una serie di controlli e di revisione per evitare di dire delle stupidaggini. Per esempio uno dei lettori amici miei si è accorto che a un certo punto, soprattutto nella primissima parte del libro, io faccio riferimento ai sistemi governativi di Firenze, perché ho pensato se uno studia Dante e vuole capire quello che ha fatto Dante a Firenze, deve sapere un pochino come funzionava la politica di Firenze. Allora, senza fare un libro intero dedicato alla Firenze della seconda metà del 200, ho fatto un piccolo capitolo in cui spiego come era governata la città, quali erano gli organi politici a cui anche Dante ha preso parte, e in uno di questi a un certo punto, anziché dire la parola 200, dico la parola 300. Mi sono sbagliato, non se ne è accorto nessuno, né dei revisori, né di Einaudi, né dei revisori del mio libro. Ecco, però è uno dei rischi che si corrono quando la quantità di dati da maneggiare è notevole, è molto molto cospicua. Allora ci sono dei sistemi per schedare tutto quello che tu raccogli, per cercare di ordinarlo per bene, ma anche così non si riesce lo stesso a sfuggire. Quindi un altro rischio che si corre è proprio questo, cioè la capacità di maneggiare i dati senza incorrere in un numero eccessivo di errori. Poi la cosa, se vogliamo, che comporta un alto, alti tassi di rischi è quando tu formi delle proposte nuove. Allora, vi garantisco che, e io mi inserisco nella categoria, la categoria di studiosi più diffusa è rappresentata da quelli che ti si presentano al telefono, oppure vengono in studio, oppure ti scrivono dicendo io ho capito finalmente che cosa voleva dire Dante qui, che sia la commedia, il convivio, no? Quindi la proposta nuova, no? Ogni giorno, e questa è la ragione per cui tanta gente scrive su Dante, ogni giorno ci sono studiosi che avanzano nuove proposte, nuova interpretazione. Ripeto, di fronte al fatto che in realtà di Dante noi abbiamo pochissimi documenti, abbiamo un po' di documenti fino al 1302, finché lui è stato a Firenze perché gli archivi fiorentini si sono conservati, per la seconda parte della sua vita, cioè dal 1302 fino al 21, noi abbiamo un solo documento d'archivio, pensate un po', del 1306. Per il resto bisogna ragionare su altri tipi di fonti. Ecco, questo tipo di, nonostante questo tipo di assenza di documenti, non manca mai qualcuno che avanza proposte nuove. Siccome l'ho avanzata anch'io, mi sono inserito, sono rientrato, diciamo, in questa categoria di coloro che rischiano di più degli altri perché hanno provato a dire qualche cosa di nuovo su Dante. Recentemente, presentando la biografia con uno dei maggiori studiosi di Dante al mondo, che si chiama Zig Baransky, che è insieme alla società di Cambridge, che gentilmente ha accolto la mia richiesta di presentare, di chiacchierare sul libro insieme a me, Baransky mi ha chiesto, ma perché non hai intitolato la tua biografia una nuova vita di Dante, perché ho avanzato alcune proposte nuove. Ho detto, ma, dico, già ci sono le proposte nuove. Se in più io metto nuovo anche nel titolo, mi attiro ancora più odi di quelli che non avrei fatto inserendo le proposte. Ho avanzato alcune proposte nuove. Alcune di queste hanno un tasso di novità notevole, per esempio l'attribuzione alla ispirazione, se non alla mano di Dante Alighieri, di una lettera del 1312, scritta da Cangrande della Scala, dietro cui io penso che ci sia, se non proprio la mano di Dante, l'idea di Dante, quindi Dante sarebbe a Verona già nel 1312. Ecco, questo tipo di novità, quando tu avanzi queste proposte, oppure il soggiorno veronese e non trevigiano, siamo qui, siamo vicini a Treviso, ma tra 1304 e 1306, ti espongono evidentemente a delle critiche, perché subito nel momento in cui tu fai queste proposte nuove, arriva il tuo collega studioso che dice no, perché tu hai scritto questa cosa, secondo me invece qui hai sbagliato tutto. Non c'è niente che funzioni. Ora, l'assenza dei documenti di cui vi dicevo, il fatto che per il periodo dell'esilio noi non abbiamo documentazione obiettiva, cioè un documento d'archivio che dica Dante quel tal giorno era a Verona perché lì il notaio ha registrato l'acquisto di una gallina. L'acquisto della gallina in sé può essere poco importante, però ci dice che Dante certamente quel giorno era a Verona e quindi questo è importante perché ci fa sapere i suoi spostamenti, le persone con cui può essere entrato in contatto e via dicendo. Queste cose non le abbiamo e quindi come facciamo? Come fa Paolo Pellegrini a parlare della vita di Dante tra 1302 e 1321 senza lo straccio di un documento che si inventa tutto? Ecco, ci sono altre fonti evidentemente, ma è chiaro che qui la possibilità di sbagliare, il tasso di rischio, aumenta esponenzialmente. Lì bisogna mettere in campo quelli che noi chiamiamo i ferri del mestiere, quindi la capacità di leggere altre fonti, di lavorare sulla tradizione testuale delle opere di Dante. Vi faccio un esempio molto semplice. A un certo punto nel canto diciottesimo del Paradiso Dante parla degli spiriti acidiosi, tira fuori il nome dell'abate dell'abbazia di San Zeno vissuto due secoli prima di lui ai tempi di Federico Barbarossa. Questo abate si chiamava Gerardo. Allora, la domanda che lo studioso della strada si fa è ma Dante, come faceva a sapere che 150 anni prima di lui a San Zeno c'era un abate che si chiamava Gerardo? Era andato in archivio, come facciamo io e Matteo, a vedere i documenti, a sfogliare gli protocolli dei notai per cercare le notizie su Gerardo? No, Dante non faceva quel lavoro lì evidentemente. Ci sono delle cronache veronesi forse che parlano di questo abate Gerardo, magari Dante ne aveva letta. No, non ci sono rimaste, almeno che noi sappiamo, non ci sono neanche cronache veronesi che parlano di questo abate Gerardo. Però se voi farete un giro a Verona, cioè c'è già stati certamente, ma se ci tornerete così potete. Adesso abbiamo fatto una bella mappa dei luoghi danteschi veronesi in cui c'è anche questo documento qui. murato sulla parete destra della Basilica di San Zeno, c'è un enorme lapide che ricorda questo abate Gerardo e a fianco al nome di Gerardo c'è il nome del Barbarossa. Ecco dove Dante, che aveva una memoria visiva formidabile, perché ci ricordava tutto quello che vedeva, aveva ricavato il nome dell'abate Gerardo. Era passato a San Zeno, aveva letto l'epigrafe e si era ricordato il nome dell'abate Gerardo e l'aveva messo, l'aveva piazzato lì nel purgatorio a fargli da narratore delle vicende, parla dell'abate Giuseppe, il fratello di Cangrande della Scala, e lì abbiamo un altissimo tasso di probabilità che Dante sia stato a Verona e abbia visto quell'epigrafe, almeno finché noi non troviamo un'altra fonte e un'altra fonte non è ancora saltata fuori. Ecco allora, un modo di far parlare altri documenti che non sono quelli d'archivio, ma sono dei documenti che pertengono all'archeologia medievale, ma sono delle fonti importanti allo stesso modo. Ecco, allora lo studioso, il filologo, ecco, di mestiere tenta, quando può e quando sa, di usare non solo i documenti d'archivio, ma anche le fonti che provengono da altre parti. Allora ho cercato di mettere insieme alcuni elementi di questo tipo per abbassare il tasso di rischio della mia biografia. Voi mi direte, beh, questa è una notizia interessante, non se n'era accorto nessuno, sì, se n'erano accorto altri studiosi, però metterla a frutto in questo modo, allora, siccome mi piaceva molto questo esempio, perché il libro in realtà racconta la vita di Dante in modo chiaro, insomma, mi hanno detto che è scritto in modo chiaro, non si fa fatica a leggerlo, ma vuole anche dare una lezione di metodo a quelli che sono un po' più giovani di me, cioè come usare queste fonti, dove andare a pescarle, come valutarle. Allora, proprio per dare, per rendere visibile ancora più questo esempio, ho messo proprio la foto dell'epigrafe della Batte di San Zeno, così uno, oltre a leggere quello che dico io, se la vede, la vede lì, beh, la riprodotta, diciamo, ma guarda un po', è proprio vero, c'è l'epigrafe della Batte di San Zeno. Poi magari va a farsi un giro a Verona, abbiamo fatto questa mappa interattiva, tu arrivi davanti al monumento e col telefonino puoi sentire tutta la storia dell'Abate di San Zeno, dell'epigrafe dell'Abate di San Zeno, e in questo modo, ecco, facciamo anche quella che è una proposta di metodo, insomma, cioè di cercare di mettere in evidenza le cose concrete che si possono legare alla biografia di Dante in assenza di altra documentazione. Bene, dunque, ha studiato questo, io adesso vorrei chiederti così, diciamo, ora a fare una veloce parabola biografica per poi scendere un po' più a fondo su un aspetto sull'aspetto interessantissimo di Verona che è uno degli aspetti di aggiustamenti più interessanti che fa il libro di Paolo Pellegrini, mettendo un po' l'accento su questo aspetto dell'esilio, sul fatto del fosse, se sappiamo tutti che Dante andò in esilio, che non rientrò, perché andò in esilio? Allora, la vita di Dante in tre minuti, una pillola sulla vita di Dante è questa, lui fino al 1302 sta a Firenze, a metà degli anni 90 del 200 comincia a impegnarsi in prima persona in politica, prima ha dei ruoli di importanza minore, poi diventa addirittura priore, il priorato è una nuova magistratura che era stata introdotta negli anni 80 del 200, era una magistratura a tempo, si restava in carica per pochi mesi, però era una magistratura molto importante, cioè i priori sostanzialmente decidevano della politica fiorentina, il fatto che Dante sia diventato priore, sono stati i priori anche tanti altri, ma il fatto che lui sia stato priore significa che non era un personaggio secondario della politica fiorentina, poi aveva occupato anche altre cariche e nell'esercizio di queste cariche ha commesso degli errori, uno degli errori più gravi che ha commesso è che quando Papa Bonifacio VIII ha chiesto aiuti militari a Firenze per una campagna militare nella Toscana occidentale, nella riunione del Consiglio che doveva deliberare se stanziare i soldi come il Consiglio Comunale di Castelfranco, non so, per ripulire i canali intorno alla città, li dovevano stanziare i soldi per mandare, per sostenere le truppe di Bonifacio. Dante alza la mano e dice no, sono contrario. Il problema è che oltre ad essere contrario a lui erano contrari in tanti e questo ha messo un po' in scacco la decisione politica che è passata ma è passata a fatica. Quando poi Papa Bonifacio diciamo così ha mandato i suoi rappresentanti a Firenze sostenendo il partito dei Guelfi Neri, Dante era un Guelfo Bianco, i Guelfi Neri gliel'hanno fatta pagare e quindi hanno intentato un processo che chiamava in causa varie ragioni tra cui anche il fatto che Dante si fosse opposto al sostegno dato al Papa e quindi l'hanno mandato in esilio, l'hanno condannato a morte, eccetera e quindi il 1302 deve lasciare la città. Allora, gli ultimi documenti dicono, il processo di Dante era perfettamente regolare, se ne facevano tantissimi di questi processi, l'accusa per pubblica fama, c'erano dei testimoni che hanno detto sì, ci sono state delle persone che hanno fatto queste cose, tizio Caio Sempronio e insieme a tizio Caio Sempronio si dice che ci fosse anche Dante condannato, d'accordo? Ah, è stata una condanna ingiusta, ma come si può condannare una persona? A quei tempi si faceva, d'accordo? Ciò non toglie che la condanna fosse stata ingiusta davvero, cioè che Dante respinga al mittente queste accuse, fatto sta che il giudice di allora ha ritenuto che anche lui fosse tra quelli che erano colpevoli, quindi Dante nel marzo 1302 o non rientra a Firenze perché forse era Roma, fatto sta che comunque comincia il suo esilio. I primi mesi sono tutti spesi nelle colline del Casentino per tentare di rientrare a mano armata, poi Dante passa a Forlì, da Forlì probabilmente viene inviata a Verona un'ambasceria per chiedere gli aiuti militari degli scaligeri, fatto sta che Dante entra in contatto con gli scaligeri e negli anni successivi, 1303-4, un anno certamente si ferma a Verona ospite di Bartolomeo della Scala che è il fratello di Gangrande. Poi c'è una piccola ripresa, sembra che ci sia Scoppi la pace tra, perché muore Bonifacio VIII, il nuovo Papa attua una politica di pacificazione, sembra che la politica riesca, Dante rientra vicino a Firenze, pare che finalmente Guelfi Bianchi, Guelfi Neri si mettano d'accordo, no, fallisce anche questo tentativo, quindi a quel punto lì Dante non si sa dove va, va a Verona, torna a Verona, va a Treviso, qui fioriscono le ipotesi su questo, io faccio la mia ma insomma ce ne sono varie. Gli anni successivi Dante si muove nell'Italia settentrionale, l'unico documento che abbiamo, quello che vi dicevo del 1306, è un atto di pace che Dante roga come procuratore in Lunigiana, a Sarzana, nella zona di Sarzana, sopra la Spezia per intenderci. Poi di nuovo i documenti spariscono, troviamo delle lettere sottoscritte da lui, dal Casentino, da Poppi nel 1311, dopo di nuovo più niente. Non si sa dal 1312 al 1316 dove sia, io ipotizzo che sia tornato a Verona, altri pensano che sia altrove, molto probabilmente si muove tra la Toscana e l'Italia settentrionale, dal 1315 in poi siamo tutti concordi nel dire che probabilmente è rientrato a Verona e stabilmente ospite di Can Grande della Scala. Quanto rimane a Verona non si sa. Il 20 gennaio del 1320 questo è un dato certo, Dante pronuncia una dissertazione che si chiama Questio de Acqua e Terra, una specie di piccolo trattato, una disputa in cui affronta il tema dell'emersione delle terre rispetto alla superficie delle acque e lo sottoscrive dalla Cappella di Sant'Elena che è la Cappella Laterale del Duomo a Verona 20 gennaio 1320 siamo sicuri che era lì una delle poche notizie certe era lì da tempo oppure si era già spostato a Ravenna sapete che muore Ravenna ed era rientrato per poco tempo a Verona questo non lo possiamo dire qualcuno sostiene che lui si sia fermato a Verona dal 15 o dal 12 come il grande Petrocchi al 20 quindi per un periodo molto lungo e qualcuno invece dice che nel 19 18 fosse a Ravenna e provvisoriamente fosse rientrato fosse rientrato a Verona questa era diciamo così in pillole la biografia di Dante poi non mi ricordo cosa mi avevi chiesto ci sei passato attraverso ecco quindi adesso potremmo direi proprio ritornarci un po' più a fondo anche con un occhio alle opere perché tu proponi anche qualche puntualizzazione sulle circostanze compositive di qualche opera dantesca e direi di fermarci un po' di più ecco su Verona che è un episodio chiaro voi sapete che sia ad esempio nel convivio ma anche nella commedia la conoscenza di Dante di cose e vicende per soccanto non paradigli di vicende venete veramente notevole previso di osservazione di puntualizzazione veramente notevoli e questo è tutto quanto si desume soprattutto dal libro di Paolo Pellegrini preso dall'osservatorio veronese fondamentalmente eh sì preso dall'osservatorio veronese quindi ecco tu hai ben identificato l'esistenza di vari plausibili soggiorni e poi quello diciamo più lungo più duraturo 1312 sì 1320 senz'altro insomma secondo un legge un po' più alto ma cosa era la Verona di quei tempi che cosa trova Dante lì in questa corte ghibellina eh sì che è un dato riferimento un po' per tutta l'Italia del partito diciamo fine finale sì questa è sì questa è una ragione importante del suo soggiorno lo scrisse quello che è stato forse il più grande biografo di Dante che è Giorgio Petrocchi Petrocchi per chi non lo conosca è stato colui che ha fatto la prima edizione critica della Divina Commedia cioè guardando tutti i manoscritti più importanti quella che tutti abbiamo letto a scuola pubblicata nel 1967 è l'edizione della commedia fatta da Giorgio Petrocchi e conoscendo a menadito la commedia da Petrocchi aveva poi studiato tutti i documenti e conosceva benissimo ogni aspetto della vita di Dante aveva fatto questa biografia che non è molto semplice da leggere ecco perché io ho provato a scriverne una un po' diversa però ricchissima di notizie Petrocchi dice l'ipotesi eccellente la chiama così è che Dante nel 1312 sia rientrato a Verona perché sono gli anni se vi ricordate in cui l'imperatore Enrico VII scende in Italia e poi si fa incoronare imperatore a Roma era una cosa che non succedeva dai tempi di Federico II è un evento storico epocale di grandissima importanza ora voi sapete che nella monarchia che viene scritta qualcuno dice nel 1313 qualcuno nel 1316 Dante teorizza il fatto che per riportare la pace la prosperità la tranquillità nel nostro mondo sia necessario un imperatore pensiamo cos'è l'Italia comunale le città che si combattono tra di loro e dentro le città i Guelfi con i Chibellini le famiglie qualche volta i Guelfi e i Chibellini sono solo una scusa sono le famiglie che si combattono tra di loro perché noi pensiamo che siccome a Firenze c'erano i Guelfi e i Chibellini era così in tutta Italia non era così i Guelfi e i Chibellini quando serviva si mettevano tranquillamente insieme è stato scritto un bel libro adesso da Paolo Grillo che si intitola La falsa inimicizia perché appunto i politici di allora non erano molto diversi da quelli di oggi però l'idea di Dante è che per mettere fine a questi litigi ci voleva un'autorità superiore a tutte le altre l'imperatore avendo tutto e non avendo bisogno di niente poteva agire in assoluta tranquillità e giustizia perché non agiva per interessi personali questa era la sua teoria esposta in termini molto semplici quindi Dante sostiene fortemente il partito Ghibellino cioè il partito che vuole non il partito Ghibellino perché non sarebbe giusto ma l'autorità dell'imperatore ora colui che più di tutti sostiene Enrico VII in Italia è Can Grande della Scala Can Grande della Scala che conquista un territorio vastissimo ma a quell'epoca lì nel 1312 diventa vicario imperiale quindi vicario dell'imperatore a Verona poco dopo conquisterà Vicenza poi arriverà a conquistare perfino Padova l'imperatore era già morto ma quando l'imperatore muore nel 1313 Can Grande in Italia diventa la figura di riferimento più importante di tutti i Ghibellini non dico che diventa una specie di vice imperatore però veniva guardato con questi occhi studi più datati ma anche più recenti proprio fatti da un nostro collega Gian Maria Varanini grandissimo medievista della mia università confermano che in quegli anni lì l'apoteosi è nel 1316 e a seguire Verona diventa il centro di raccolta di tutti i Ghibellini d'Italia vengono dalla Toscana tutte le più importanti famiglie Ghibelline Toscane di Firenze si rifugiano lì d'accordo quindi Can Grande è davvero un punto di riferimento allora non ci sorprende che Dante si porti nella città dove sta colui che meglio di tutti ha raccolto l'eredità di Can Grande è una cosa che possiamo ritenere abbastanza naturale da questo punto di vista maggior ragione quando Enrico VII nell'estate del 1313 muore quindi crolla la speranza che sia lui a restaurare l'autorità imperiale e poi ci sono degli elementi che fanno pensare che tutto sommato il ruolo che Can Grande ha avuto per Dante sia stato davvero così importante il canto XVII del Paradiso nel canto XVII del Paradiso se qualcuno se lo ricorda Dante fa un elogio di Can Grande della Scala che non fa in tutta la commedia che non riserva in tutta la commedia nessun altro e usa per Can Grande le parole che nel Vangelo si usano per Cristo addirittura colui che provvederà i poveri risolleverà i poveri addirittura ora di fronte a un atteggiamento di questo tipo noi possiamo fare due ipotesi o che si tratta di un elogio cortigiano come ha scritto Marco Sant'Agata che non era favorevole all'ipotesi del soggiorno veronese ma di fronte a questi versi poteva solo dire che Dante mente spudoratamente per procurarsi il pane quotidiano oppure che Dante sia sincero e che quindi l'elogio di Can Grande sia un elogio sincero come credo io e come crede la maggior parte degli studiosi dettato dal fatto che evidentemente Dante davvero in una certa fase della sua vita vede in Can Grande l'unica speranza di risollevare le sorti del partito diciamo così chiamiamole imperiale evidentemente questo condottiero che dovunque andava vinceva doveva avere in qualche misura impressionato il poeta che lo ospitava Verona non dico in modo mecenatesco ma che evidentemente lo agevolava perché se poi Dante gli dedica il paradiso una qualche benemerenza nei suoi confronti doveva avere Dan ecco a questi dati io ho aggiunto una tessera nel 1312 ve la racconto in due minuti nel 1312 nel partito imperiale tra coloro che seguono l'imperatore accade un fatto piuttosto grave i due logotenenti chiamiamoli così di Enrico VII in Italia che si chiamano Filippo d'Acaia e Werner von Omburen due generali chiamiamoli così per capirci si trovano nell'estate del 1312 a Vercelli c'è una dieta in cui si riuniscono tutti diciamo i nomi forti del governo dell'imperatore e questi due Filippo d'Acaia e Werner von Omburen per una questione di semplice precedenza vengono alle mani e Werner von Omburen cerca di uccidere l'altro il quale viene salvato dai suoi scudieri viene portato via mezzo nudo Albertino Mussato racconta questa che è un famoso umanista padovano racconta questa scena viene ferito portato via insomma si salva e voi capite bene che l'episodio è piuttosto grave perché in quell'anno lì nel settembre Enrico VII si stava preparando a sediare Firenze ora Firenze era la città che guidava la rivolta contro l'imperatore perché era piena di soldi e quindi cosa faceva oltre ad avere un esercito enorme con quei soldi pagava i bolognesi diceva se voi mi aiutate io e quindi tutti quelli che non vedevano di buon occhio l'imperatore venivano foraggiati da Firenze ecco perché Dante la chiama l'idra e dice all'imperatore è inutile che tu sconfiggi tutte le città dell'Italia settentrionale bisogna uccidere il drago che sta a Firenze se uccidi è inutile che tagli le teste tagli una testa ne spuntano tre dice l'imperatore quando scrive all'imperatore Enrico VII devi uccidere il corpo cioè Firenze allora finalmente Enrico VII nel settembre del 1312 assedierà Firenze due mesi prima i due suoi generali più importanti rischiano di ammazzarsi l'uno con l'altro a questo punto Can Grande della Scala che era il terzo nome forte di tutto lo schieramento cosa fa? scrive una lettera all'imperatore e gli dice guarda che sta succedendo questa cosa guarda che questi due a momenti si ammazzano tra di loro devi assolutamente riportare la pace ora questa lettera contiene tutta una serie di elementi stilistici che si ritrovano in alcune opere di Dante che si ritrovano nella commedia e che si ritrovano in quel documento del 1306 che io vi ho citato prima questo documento se vi ricordate è una pace è un trattato di pace che viene stipulato in Lunigiana tra il Vescovo e dei nobili di Lunigiana questi nobili di Lunigiana che sono di Malaspina mandano Dante a fare il procuratore ora questo documento di pace del 1306 si apre con un elogio della pace la pace è quella che fa prosperare le genti che fa vivere in tranquillità che fa diventare ricchi che ci fa stare felici tutta una teoria allora la teoria di fonti che viene citata in questo documento del 1306 è la stessa che c'è nel documento del 1312 uguale identica allora mi sono chiesto è possibile questa coincidenza è solo una coincidenza oppure il fatto che lì e qui ci siano le stesse cose vuol dire che l'ha scritta la stessa persona perché nel 1306 siamo sicuri che Dante stava lì e se nel 1312 come ipotizza Petrocchi era Verona allora può darsi che dietro la lettera scritta da Can Grande ci sia la mano di Dante non sorprende che Can Grande per scrivere una lettera all'imperatore così complicata possa aver chiesto a Dante aiuto se stava lì ovviamente noi non abbiamo le prove di questa cosa qui non ne abbiamo perché non c'è la mano di Dante però un'ipotesi che era stata formulata timidamente in passato che mi sono sentito di rilanciare e facendo tutta un'analisi stilistica di questo documento qui ovviamente quando ho annunciato questa cosa è successo il finimondo il finimondo è successo perché ho cominciato a chiamarmi le radio le televisioni lei ha scoperto una nuova lettera di Dante no dico io non ho scoperto niente la lettera è sempre stata lì era già stata pubblicata io dico semplicemente che secondo me potrebbe averla poi mi hanno cominciato a scrivere i colleghi dice no non hai capito niente è tutto sbagliato no Paolo sei un genio hai trovato le lettere sono successe di tutti i colori è stato molto divertente devo dire io mi sono sentito nel libro di proporre al dibattito questa ipotesi qui anche perché la conoscenza avanza se si discute se uno si tiene le cose dentro il cassetto non succede niente e quindi questa ipotesi se difendibile confermerebbe l'intuizione di Petrocchi cioè che Dante nel 1312 effettivamente si fosse portato lì e che non solo stesse lì ma effettivamente avesse con Can Grande un rapporto così stretto al punto che Can Grande chiede a lui un suggerimento per scrivere questa lettera e allora a questo punto anche il fatto che poi Dante riconosca il ruolo di Can Grande nel canto diciassettesimo del paradiso assume anche un significato più rotondo se vogliamo è stato lì dal 1312 al 1320 questo non lo può sapere nessuno perché Dante si spostava però è possibile che la sua base diciamo così di movimento fosse Verona certamente Verona era il posto diciamo così più tranquillo per uno come lui o sembrava più tranquillo poi certo le cose si sono guastate a un certo punto perché nell'epistola Can Grande e nella question si capisce che Dante comincia a sentirsi un po' stretto l'ambiente veronese e quindi va via negli ultimi anni l'ultimo anno e mezzo lo passa a Ravenna ecco questa è un po' diciamo l'ipotesi che mi sono sentito più forte che mi sono sentito di formulare vedremo come verrà discussa in parte è già stata discussa ed è uno degli elementi diciamo un po' di novità del libro forse anche un po' più divertenti perché questa lettera è effettivamente un testo molto affascinante per molti aspetti un'altra cosa che mi piace illustrarvi di questo libro ne abbiamo parlato prima anche rapidamente è l'esistenza di chiamiamolo un registro intermedio tra il corpo del testo è propriamente detto quello che leggete nella pagina le note il corpo più piccolo e c'è un corpo di testo con l'interlinea è una bella abbastanza ariosa però più grande delle note ma più piccolo del testo che è una sorta di come si può dire di apparato più più approfondito rispetto al testo cioè ci sono le questioni di complessità magari filologica o che richiedono argomentazioni più puntuali un attimino più focalizzate e allora Paolo Pellegrini ha pensato di isolarle con questo corpo del testo e il risultato per chi legge è molto piacevole perché va diciamo così a cavallo sul corpo di testo normale poi dice boh fermi qua qua bisogna o mettere il cavallo più modestamente al passo o si scende e andiamo piano quindi busca il cantibus a capire questi aspetti di esame più puntuali per me sono gustosissimi questi aspetti di approfondimento e proprio per dare anche così far capire un po' alle persone che sono qui stasera come funziona il lavoro del filologo e anche per sfruttare l'occasione che tu ci dica qualcosa di quel patrimonio senza pari che è la biblioteca capitolare di Verona e di fare un attimo quel ragionamento su quel quartetto di citazioni che Dante fa e che tu in un certo quel modo ricolleghi proprio alla biblioteca capitolare e anche se si spiega un po' della biblioteca capitolare che forse qualcosa va bene sì l'idea di fare delle schede che affrontassero argomenti magari un po' più complessi è nata perché in realtà il libro è stato scritto negli Stati Uniti siccome in università tutto si fa tranne che studiare ormai quindi per fare il libro ho chiesto alla Columbia University se mi aiutava dandomi una borsa di studio per poter lavorare tranquillamente per un po' di mesi solo su questo e quindi ho chiesto anche al direttore di dipartimento di esentarmi dall'insegnamento per quei mesi e lui devo dire con grande disponibilità me li ha concessi la Columbia ho presentato il progetto ho approvato il progetto e quindi ho raccattato tutta la mia famiglia moglie e tre figli e siamo andati quattro mesi a New York i figli grazie all'abilità di mia moglie sono stati sistemati nelle scuole pubbliche di New York hanno imparato l'inglese benissimo tutti e tre e si sono molto divertiti io facevo il mestiere per una volta nella vita più bello del mondo cioè studiare dalla mattina alla sera tranne le domeniche che erano dedicate a girare e quindi questo mi ha permesso di concepire il libro in un modo diverso era stato pensato per essere pubblicato in inglese e ho detto un americano un inglese non potrà mai seguire alcuni argomenti così specifici come magari un italiano che bene o male il medioevo a scuola lo studia i romani si studiano tutta una serie di argomenti specifici che noi diamo per fortuna per scontati perché abbiamo la fortuna quindi dico devo fare un testo chiaro e ogni volta che affronto degli argomenti più specifici lo faccio vedere facendo delle schede in corpo minore strutturate in modo un po' diverso così se uno vuole le legge però la narrazione non si interrompe uno può saltarle e continuare a leggere il libro tranquillamente poi Leinaudi che ha degli impaginatori formidabili ha studiato questa soluzione di fare un corpo intermedio non troppo grande né troppo piccolo con una bella interlinea che non spaventi perché se lo fai troppo piccolo e con l'interlinea schiacciata nessuno lo leggerà mai quindi l'impaginatore ha detto facciamo una via di mezzo ha avuto ragione in modo tale da segnalare queste divagazioni che affrontano degli argomenti un po' più specifici che a volte però sono interessanti affascinanti uno può decidere liberamente cosa fare nel leggere il libro allora vi faccio un esempio uno dei temi che di cui mi sono occupato è proprio riguarda proprio gli anni che vanno dal 1304 al 1306 dove non si sa non si sa nulla di dove Dante sia stato qualcuno lo colloca Treviso Gerardo da Camino Dante parla del Sile e del Botteniga che allora si chiamava Cagnano come fa Dante a sapere che esisteva il Botteniga è perché l'ha visto e è stato a Treviso e probabilmente c'è stato davvero quanto ci sia stato non si sa allora ho fatto una mappetta nel libro troverete una mappetta in cui ho chiesto che venisse rimarcato il Botteniga perché nessuno sa dov'è no tutti sa il Cagnano sì ma che cos'è il Cagnano è il Botteniga una mappetta e ho chiesto espressamente all'impaginatore scrivimi Botteniga così finalmente tutti sapranno dov'è va bene però l'ipotesi che ho fatto io è che tra 1304 e 6 Dante torni a Verona perché a un certo punto nel De Vulgari Eloquenzia Dante parla dei prosatori dei grandi prosatori del passato e cita quattro nomi in infilata Orosio che è quello che ha scritto le storie contro i pagani quello lo leggevano tutti era molto diffuso Livio era diffuso ma meno di Orosio era in varie biblioteche d'Europa Plinio la Naturalis Historia che non è proprio un libro di una cronaca storica però insomma è Naturalis Historia molto meno diffuso la Naturalis Historia non era così nota nel Medioevo e poi Frontino che credo nessuno di voi abbia letto che ha scritto una specie di stratagemato un'opera di storia militare quindi ripeto Plinio Livio Frontino e Orosio nel De Vulgari Eloquenzia Dante dice così una amica sollicitudo usa questa espressione mi ha invitato a leggere questi prosatori cosa vuol dire un'amica sollicitudo qualcuno dice l'amica sollicitudo è la sollecitudine mia di Dante amichevole verso questi prosatori cioè io avevo l'idea di studiarli di leggerli perché mi interessavano un'inclinazione chiamiamola così traduciamolo un'inclinazione a leggerli e qualcuno dice no amica sollicitudo non può tradursi così vuol dire che qualcuno un amico lo ha sollecitato lo ha invitato a leggere questi autori allora la domanda che si sono fatti gli studiosi mi sono fatto anch'io è bene ma questi autori che l'amico gli ha nominato dove stavano perché abbiamo detto Rosio era un po' dappertutto Livio meno Plinio ancora meno e Frontino dove c'erano i manoscritti come faceva a sapere l'uomo del medioevo primo che Frontino esisteva e due dove c'erano delle opere di Frontino perché se un autore è diffuso molto poco e noi riusciamo a vedere dove c'erano manoscritti di questi stratagemata di Frontino cominciamo anche a ridurre il numero di città a cui fare riferimento e siccome sappiamo che Dante si è mosso in Italia settentrionale andiamo a vedere in quali biblioteche Frontino si trovava paradossalmente questa ricerca approfondita sui manoscritti di Frontino ancora non è stata fatta quindi diceva però interessante qualche studioso ha detto questi quattro nomi questi quattro nomi sono una lista sghemba di prosatori illustri il grande filologo Giuseppe Billani che è stato maestro del mio maestro diceva questa è una lista sghemba di prosatori illustri cioè Dante non ha letto niente di tutti questi qui li ha messi lì per far vedere quante cose sapeva e forse è vera questa ipotesi non lo so ma insomma bisogna prenderla in considerazione un'altra ipotesi invece è dire bene adesso vediamo dove si trovano questi manoscritti come vi dicevo e noi sappiamo che una delle pochissime forse la sola biblioteca che possedeva tutti questi autori è la biblioteca capitolare di Verona voi sapete che Verona ha una delle possiede uno dei patrimoni manoscritti più antichi al mondo ed è l'unica che ha manoscritti che vanno con continuità dal VI secolo dopo Cristo fino all'umanesimo cioè noi abbiamo scritti del VI, VII, VIII, IX l'unica biblioteca al mondo che ha questo patrimonio e l'unica biblioteca questo lo sappiamo di certo che nel momento in cui Dante si doveva trovare a Verona quindi 1303, 4, 5, 6 aveva esattamente questi autori allora Orosio non fa testo perché però aveva Livio aveva Plinio e soprattutto aveva Frontino allora l'ipotesi che ho fatto io che ho ripreso in parte io perché non è mia ma io l'ho rilanciata è che qualcuno a Verona avesse fatto a Dante questi nomi d'accordo cioè gli avesse detto guarda che forse tu potresti essere interessato a leggere questi manoscritti il che non vuol dire che Dante è entrato in biblioteca capitolare a cercarli Bilanovic appunto diceva no Dante non è mai entrato adesso abbiamo questo progetto di ricerca sui codici della capitolare che è nato con l'idea di trovare un manoscritto studiato da Dante che non troveremo mai non importa però siamo partiti con questo sogno di mettere a ferro e fuoco metaforicamente la biblioteca i documenti per vedere se troviamo qualche traccia del passaggio di Dante è nata a partire da questa citazione qui dunque la biblioteca capitolare a quello che sappiamo noi oggi è una forse la sola dell'Italia settentrionale che aveva manoscritti di Livio manoscritti di Plinio e manoscritti di Frontino allora è possibile che qualcuno di coloro che lavoravano in capitolare a quell'epoca c'era il mansionario della cattedrale l'amministratore della cattedrale si chiama Giovanni de Matocis che quei manoscritti li studiava e ce n'era un altro che si chiama Guglielmo da Pastrengo grande amico del Petrarca che li studiava allora c'è stato uno studioso che citavo prima Zieg Baranski il grande studioso di Dante che durante un seminario tenuto alla sua università Notre Dame mi ha fatto notare che per dire come bisogna stare attenti ecco quindi la lezione di metodo che bisogna dare ai più giorni che un autore medievale che si chiama Giovanni di Sosbury scrive il Policraticus che è una specie di enciclopedia medievale a un certo punto nel Policraticus cita tra gli storici Frontino e Plinio allora lui mi ha detto Paolo stai attento perché non è che magari Dante ha letto il Policraticus di Giovanni di Sosbury e gli è venuta l'ispirazione di citare Livio e Plinio da lì scusate Plinio e Frontino da lì è possibile lì non c'è Livio però e questo è un elemento che mi fa tornare comunque all'idea della Capitolare di Verona Livio doveva averlo aggiunto Dante mentre in Capitolare c'erano tutti e tre e poi se devo dirla tutta in Capitolare c'era anche il Policraticus di Giovanni di Sosbury perché Guglielmo da Pastrengo cita il Policraticus nelle sue opere quindi ciò non toglie che il Policraticus Dante poteva averlo visto lì non lo sappiamo questo per dire quanto sono complesse le ricerche allora tutta questa faccenda di Livio, Plinio e Frontino io non l'ho raccontata nel corpo del testo perché se no qualche lettore me lo avrebbe lanciato dietro ho fatto un box e l'ho racchiuso in un corpo un po' minore se uno è curioso si va a leggere la storia di Livio, Plinio e Frontino un altro caso simile mi rubo 30 secondi riguarda la monarchia di Dante allora la monarchia di Dante non si sa quando è stata scritta qualcuno dice nel 12-13 perché Dante l'avrebbe scritta a supporto di Enrico VII qualcuno dice dopo perché dopo perché a un certo punto nella monarchia di Dante Dante cita il paradiso sta parlando in una parte della monarchia nel capitolo 12 del primo libro del concetto di libertà e quando parla del concetto di libertà infila nella monarchia questa frase dice sicut in paradiso commedie iam dixi come ho già detto nella cantica del paradiso della mia commedia cioè sta citando se stesso ora tutti gli studiosi sono concordi nel dire che il paradiso non è stato cominciato prima del 1316 allora noi cosa ricaviamo da questo dato che se Dante cita il paradiso nella monarchia la monarchia è stata scritta dopo per forza se no non potrebbe citare il paradiso cita una roba che non ha ancora scritto e questo è contro l'ipotesi di chi dice che la monarchia è stata scritta per Enrico VII nel 1312-13 allora l'ha scritta dopo per chi l'ha scritta e qui torna di nuovo fuori Can Grande evidentemente non è che avesse in mente qualcosa di strano su Can Grande ma questo è un altro argomento a questo punto alcuni studiosi dicono quella frasetta lì sicuti in paradiso come ho già detto non è di Dante è stata messa dentro da qualcun altro non era nel manoscritto originale qualcuno l'ha scritta a fianco e poi un copista l'ha infilata dentro il testo dopo qualche studioso ha fatto anche questo tipo quindi non può essere usata per datare l'opera allora il filologo cosa fa? benissimo andiamo a vedere tutti i manoscritti della commedia e della monarchia se noi guardiamo i manoscritti della monarchia riusciamo a metterli in ordine a fare una specie di genealogia a vedere quelli più importanti l'inciso sicuti in paradiso è praticamente in tutti i codici in tutti quindi vuol dire che era all'inizio del testo alla base di questi testimoni di tutti questi manoscritti ce n'era uno che ce l'aveva già dentro se no è impossibile che ce l'abbiano tutti d'accordo? quindi è originale allora delle due l'una o ce l'ha infilato qualcuno che dormiva nel materasso a fianco a Dante suo figlio infatti i grandi filogi dicono o l'ha fatto uno dei figli di Dante o qualcuno che era proprio lì vicino o se no bisogna ammettere che l'abbia scritto veramente lui tutta questa storia qui dei manoscritti non la metto nel testo perché di nuovo mi tirereste dietro il libro allora ho fatto una scheda in cui racconto la storia della tradizione di Dante e chi vuole si va a leggere questa storia di Sicuti in Paradiso Comedia poi un'altra un'altra questione che in questo libro un'altra tipologia di strumento che in questo libro viene spesso utilizzata che è davvero molto molto bella io ho cominciato a utilizzarla nel momento in cui la biblioteca di Castelfranco le ha presi cioè abbiamo comprato ci guardano lì esattamente dalla finestra ci intimoriscono ci intimoriscono questa raccolta di commentatori sono perlomeno i più antichi quelle del terza decada quarta decada del trecento sono i più antichi l'ottimo Andrea tutta una serie di Pietro Ligieri adesso Pietro Ligieri che è morto per l'altro treviso eh sì San Francesco c'è la tomba esatto è morto 1360 questa è anche una fonte magnifica per vedere qualche uno di questi dice io l'ho conosciuto mi ha detto Dante che deve essere l'ottimo insomma è una fonte molto bella che trovate muoversi nel libro di Paolo Pellegrini un po' per chiudere e poi lasciare eventualmente se ce ne fosse desiderio la possibilità di qualche domanda dal pubblico vorrei chiederti una domanda sciocca che però un po' mi incuriosisce no? ed è questa uno si fa l'idea no? un po' della persona che ha studiato io ho avuto modo di studiare non so predicatori medici e così via e alla fine dopo tanto inseguimento tra le parte e così uno ha l'impressione di aver colto un profilo di aver colto qualcosa come si può dire che i documenti non dicono non possono dire ma che forse ti lasciano indovinare tu hai come si può dire hai colto qualche cosa dell'aspetto vorrei dire non so se dire proprio umano o qualcosa che ti consenta di così di sovrapporre una un profilo meno standardizzato di quello che vediamo anche nelle iconografie no? tante delle iconografie eh no questo soggetto in tonica in tunica rossa complicato fatto così di un naso fatto appunto come fatto il naso di Dante e così via eh questa è una bella domanda e beh diciamo che eh la figura di Dante a tutti noi è sempre apparsa come la figura di un uomo tutto d'un pezzo no? perché il Dante che abbiamo studiato noi è il Dante del Risorgimento il padre della patria l'incorruttibile no? quello che fustiga la chiesa corrotta che fustiga i cattivi costumi che viene mandato in esilio ma non si piega di fronte no? a questi persecutori che non lo vogliono fare e li condanna lui e quindi loro passano la storia per tanto adesso chiedono scusa ancora adesso i fiorentini vogliono le ceneri del poe e i ravennati non gliele danno eccetera no? quindi noi siamo nati con questa immagine di Dante che forse è eccessiva no? poi nei primi anni 2000 è uscita tutta una serie di pubblicazioni quelle cui si faceva riferimento di Marco Sant'Agata di altri studiosi che ci hanno raccontato un Dante diverso un Dante che invece leggendo la commedia come un instant book continua a cambiare partito ogni due per tre quindi viene esiliato da Firenze e la prima cosa che fa prima prende le armi per entrare a Firenze armato come gli altri poi siccome va male prova a chiedere scusa e a farsi riammettere quindi diciamo si vende i guelfi neri quelli che avevano vinto poi si pente un'altra volta torna di nuovo da Can Grande e quando arriva a Rico VII diventa Ghibellino sfegatato come era prima quindi cambia partito un'altra volta insomma un Dante che scende ai compromessi più bassi pur di portare a casa la pagnotta come si dice che forse è un'immagine non so se se qualcuno di voi ha letto il libro di Alessandro Barbero su Dante che è un bel libro tutto sommato anche se diverso da quello che ho scritto io con una prospettiva diversa ma se voi leggete la quarta copertina Dante è un uomo profondamente immerso nel medioevo e anche la prospettiva di Barbero è molto così e qui dico qualcosa contro i medievisti adesso Matteo se Dante è un uomo come tutti gli altri un uomo medievale come tutti gli altri chi è che lo interpreta meglio di tutti quelli che conoscono la società medievale meglio di tutti cioè i medievisti che ci sanno leggere la società e in modo un po' deterministico dicono la società medievale è fatta così l'uomo medievale è fatto così e si comporta in questo modo e quindi noi riusciamo a interpretarlo in modo quasi schematico Dante è un uomo profondamente immerso nel medioevo e come tutti gli uomini del medioevo cedevano i compromessi si schieravano cambiavano partito si alleavano con uno poi siccome non funzionava si alleavano con l'altro e quindi avanti quindi è perfettamente leggibile tra l'altro smettiamola con questo Dante no integeri ma è un uomo come tutti noi molto più quindi questo Dante è più vicino all'uomo della strada facciamolo più nostro no smettiamola con questo mito risorgimentale eccetera eccetera un uomo appunto come dice Barbero profondamente immerso nel medioevo io su molte cose che ha scritto lui non sono d'accordo perché i documenti ci dicono un'altra cosa ci dicono un'altra cosa rispetto ai suoi comportamenti questo modo di leggere Dante non mi ha convinto perché rispetto a quello che ho potuto vedere io in realtà Dante non si è comportato così cioè i documenti non ci permettono di dire questo se noi non li forziamo se noi non li forziamo non sono neanche ritornato a dire la verità al Dante del risorgimento però dopo aver fatto il percorso di un tipo e il percorso dell'altro tipo l'idea che mi sono formato è che tutto sommato Dante fosse un uomo sostanzialmente coerente con le sue idee cioè la biografia così come è venuta fuori a me rispetto a quello che lui dice mi riconsegna a un Dante che non ha paura di dire le cose che pensa tutto sommato anche quando queste cose possono risultare un po' scomode esempio scheda brevissima però ci capiamo ma è inutile che parliamo di teoria Purgatorio XVIII il famoso Abate Gerardo ne dice peste e corna di Giuseppe della Scala Abate di San Zeno che ne aveva combinate di tutti Dante fa un ritratto pessimo di Giuseppe della Scala e del padre Alberto no? ma Giuseppe della Scala è il fratello di Can Grande bastardo perché era figlio naturale di Alberto non era figlio della mamma e del papà ma aveva fatto una scappatella Alberto della Scala e era venuto fuori questo Giuseppe che pare fosse a quello che dice Dante malfermo del corpo e della mente neanche tutto giusto di testa questo è il ritratto che c'è Purgatorio XVIII allora tutti i biografi dicono ah beh Dante non può aver scritto queste cose a Verona perché cosa fa scrive queste cose qui mentre è ospite di Can Grande della Scala quindi il canto diciottesimo del Purgatorio non è stato scritto a Verona è stato scritto prima da qualche altra parte perché questo anche alcuni biografi eccellenti dicono sono cose che non si sarebbero potute dire in faccia a Can Grande allora a questo punto a me quando ho letto queste cose mi è venuta spontanea la domanda perché tutti i costoro dopo aver fatto questa deduzione dove mettono Dante subito dopo aver scritto il Purgatorio dove va Dante a Verona e dico eh no perché voi non mi potete dire che Dante non può aver scritto queste cose a Verona e subito dopo averle scritte va proprio lì perché non c'è logica in questo ragione o c'è andato col capo che ho sparso di cenere cioè ho scritto queste cose ma mi pento no infatti qualcuno dice sì l'elogio di Can Grande l'ha fatto per scusarsi di quello che aveva scritto a metà del Purgatorio insomma non mi convince come logica noi andiamo a vedere i documenti d'archivio questa è la voce di Giuseppe scritta da Varanini e vediamo che quando Giuseppe della Scala muore il fratello Can Grande restituisce una serie di beni che Giuseppe aveva usurpato allora l'ipotesi che faccio io è ma non è che per caso invece Dante aveva detto esattamente quello che pensava e tutto sommato effettivamente Giuseppe della Scala aveva combinato qualcosa che non andava bene perché aveva depredato delle famiglie dei propri terreni rivendicandoli per il monastero quindi rubando sostanzialmente questo ci dicono i documenti pubblicati da Varanini e citati nella voce edizionale biografico e se Can Grande li ha restituiti evidentemente beh certo poteva averli restituiti anche perché aveva paura per una mossa politica però perché dobbiamo escludere che li abbia per forza perché dobbiamo escludere per forza che uno possa fare un atto di giustizia perché non va bene la giustizia perché non ci può essere qualcuno che agisce per un criterio di giustizia oltre che per convenienza non capisco perché il criterio della convenienza è un criterio moderno accettabile e la giustizia no dobbiamo escludere dalla storia dell'uomo il fatto che ci siano state delle persone giuste allora io non dico che è una cosa o che è l'altra ma dico che non è dal punto di vista dell'atteggiamento onesto dello storico non è non è corretto prendere una delle due ipotesi come quella vera per forza e l'altra no può darsi che Gangrana in quel momento abbia fatto anche un gesto di giustizia restituendo quelli che erano stati depauperati e che Dante avesse recepito questa mossa cioè che il fatto che Dante si fosse pronunciato in quel modo risponda a questa logica qui per cui loro due si intendevano non sto dicendo che è la soluzione dico che non dobbiamo escluderlo ecco l'idea che mi sono fatto tutto sommato rispetto a questa ricostruzione è che fare i conti con un Dante coerente cioè diciamo così che il momento di liquidare Dante come persona coerente non è ancora arrivato secondo me aspetto di avere in mano qualche cosa di un po' più sostanzioso grazie Paolo dunque io direi che se qualcuno ha qualche ulteriore curiosità è il momento di chiederlo che mi sarà risposto io naturalmente ho credo di aver parlato anche tu ne ho sempre mille altre curiosità e se sto leggendo un libro così le curiosità fioccano ma io non non farò ulteriori particolari domande se non appunto a questo punto invitarvi veramente a leggere a leggere questo libro che è appunto un bellissimo approccio in cui potete anche toccare con mano come si lavora a costruire la biografia come si interrogano dei testi come si valutano come si misurano criticamente la terribilità dei testi stessi e noi come appunto biblioteca ripeto abbiamo fatto questa scelta proprio di avere ospite Paolo Pellegrini per questo per far capire che al di là delle come si potrebbe dire delle facili coppie d'artificio che ci portano spesso a individuare delle soluzioni consile di come si può dire di facile di facile di facile impatto la filologia ed è una cosa che veramente raccomando ancora quella traduzione che è veramente una premessa ben scritta che ci insegna proprio questo la misura il senso della valutazione dei dati di fatto e soprattutto di avere un occhio che cerchi di tenere assieme più tipologie più tipologie di fondi quindi io ringrazio ancora Paolo Pellegrini e ringrazio a voi per essere stati con noi stasera grazie a voi della pazienza e di essere venuti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti